Sono molte le ciclabili a Cremona che presentano enormi problematiche, senza contare il fatto che la città del Violino non ha nemmeno una ciclabile che consenta di arrivare direttamente in centro città, ma far discutere nelle ultime ore sono principalmente due piste, la ciclopedonale di via San Rocco, che dopo nove anni versa in condizione di totale degrado e abbandono senza considerare il fatto che non vi è nessun tipo di illuminazione, ed infine la nuova ciclabile di via Giuseppina, rinominata da molti il red carpet di Cremona, che sta suscitando forti polemiche, non solo dai cittadini ma anche dalla minoranza. Ho voluto segnalare la situazione della pista ciclabile che va al bosco, proprio perché è molto utilizzata sia dai ciclisti ma anche dai pedoni, dove manca completamente dei cestini per le immondizie, c'è sporco, ci sono rifiuti non solo nel canale ma anche a bordo della pista e poi c'è tutta la staccionata che per lunghi metri è completamente divelta. Questa segnalazione in comune è già arrivata da tanto tempo ma non sono mai intervenuti gli uffici, allora ho presentato un'interrogazione per far sì che adesso si prenda un impegno nel prossimo bilancio per trovare le risorse e dare tempi certi di intervento. Ma oltre a questa pista ciclabile, come dicevi, la situazione è un po' generalizzata, ad esempio in via Giuseppina è stata fatta una pista completamente sbagliata, anche qui anziché ascoltare chi di pista ciclabile e se ne intende, ad esempio le associazioni tipo la FIAB che aveva fatto dei rilievi tecnici per fare esattamente un progetto che fosse una vera pista ciclabile, si è deciso di pitturare di rosso un marciapiede dove ci sarà rischio di incidenti fra pedoni e ciclisti e dove non si va assolutamente a risolvere nessun problema per coloro che usano la bici per andare all'ospedale e per muoversi su quella direttrice. Purtroppo in comune lavorano male perché non hanno direttive chiare, non hanno direttive competenti da parte degli amministratori. Ora speriamo che davanti all'evidenza, all'incuria, al degrado e a tante critiche anche dei cittadini si inverta finalmente la rotta e questa amministrazione provi di più a ascoltare la città.